Il corso mi è piaciuto tutto, la sorpresa di trovarmi di fronte a delle cose che non pensavo di poter guardare negli occhi degli altri. A casa mi porto una grande gioia e la sensazione di non essere sola, di poter essere sempre connessa anche a distanza perché ho trovato delle anime gemelle in questo fine settimana che per me è stato lungo quanto mesi. Il lavoro che ho fatto in questo fine settimana è durato tanto 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 per me, mi ha fatto mettere in gioco, mi sono messa in gioco volutamente ma ho scoperto di essere passata oltre tutti i limiti che mi ero posta, quindi io lascio qui la rigidità, la vergogna, l'imbarazzo e la paura di essere giudicata. Io dico grazie, grazie a Patrizia perché mi ha dato questa grande opportunità, grazie a tutti quelli che fanno parte di questo percorso. Per me è stato un dono grande quello di avervi incontrato e di aver cominciato a camminare aprendo gli occhi.